caro amico eh Angelo Mau come stai? finalmente in via marina vedi che bella la via marina guarda guarda c'è un mare guardo mare quanto è bello gli alberi guarda che alberi alberi secolari secolari no no devo dire complimenti per la via marina di reggio calabria mi dispiace che io vai al bello che non c'è su manca reggio calabria vai america torno da america insomma a proposito di america si ma me la vuoi spiegare una cosa che io non l'ho capito dimmi dimmi cosa mi hai detto due giorni fa che c'erano un film in america oh e mi hai detto di andare a vedere al cinema oh cinema oh e io sono andato al cinema e non lo vedi? mi sono seduto sì ho aspettato due ore due ore è finito il film sì ma c'era Silvestre Stallone pure sì ma come regista sì ma perché ti hai chiamato Silvestre Stallone? mi chiamavo Stallone mi chiamavo diversa mia ho capito sì perché mi chiamavo sempre la parte più importante capisci la parte più importante ecco ma questa parte più importante sì il film sai come è finito no come è finito è finito con tanta gente dietro che pianceva una barra con un volto penso dentro sì e sta barra camminava io non ti vedo è arrivato il film fine e tu non mi hai vista mia? non ti ho visto ma tu dove eri? in giro. 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 in